Buonasera a tutti, oggi affronteremo un tema a me caro, il video di oggi non riguarda un film ma preso spunto da un post che ho messo su Facebook a proposito di un ricordo e un ricordo abbastanza curioso e quindi alcuni amici di Facebook che hanno letto questa cosa mi hanno chiesto di avere più informazioni, per molti è già nota questa storia che racconto una mia storia personale, per altri no, comunque vi faceva piacere raccontarvi perché è una cosa molto divertente era il 2009 e tramite il mio sito vengo contattato da una fondazione artistica, una fondazione culturale di Venezia che si chiama Bevi l'acqua alla masa, che organizza eventi culturali, mostri eccetera chiedendomi di potergli rimediare, potergli vendere 25 ilmetti io chiedo spiegazioni, ma che ilmetti volete? che c'è una collezione, diversi, uguali eccetera sono abbastanza vaghi, dicono senta ci servono per una nostra artista un nostro artista che deve fare una mostra allestire una mostra dico a me ma come vi servono questi tutti uguali, della guerra dipende, sono costi diversi no, vorremmo spendere il meno possibile allora se voi vi servono proprio della guerra l'importante è che siano di metallo io vabbè, dico ma che ci deve fare no guardi la nostra artista ha pensato di mettere gli elmetti a rovescio quindi con l'interno verso l'alto appenderli al soffitto con dei fili di nylon come una sorta bacinella appesa e al suo interno mettere dei pezzi di puzzle staccati messi a casaccio e sopra il puzzle rappresenta dei pezzi di nuvola quindi un'eventuale ricostruzione qualora si volesse ricostruire questo puzzle ci sarebbe stato un cielo con delle nuvole però erano messi così da prenderli perché rappresenta ogni elmetto rappresenta un soldato morto che guarda il cielo e si rasserena e pensa alla mamma visto che la mostra era centrata sulla mamma sul rapporto di maternità rapporto tra figlio e mamma una cosa del genere vabbè io ero abbastanza imbarazzato ero abbastanza curioso da questa cosa chiamo il mio amico Roberto Piergentile che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso però è stato un carissimo amico con cui abbiamo condiviso delle esperienze di vita inimmaginabile inimmaginabile voi umane non potete immaginare voi umani quello che abbiamo passato insieme vabbè però era un allegrone era un veramente gli raccontò sta cosa stramazzato perché ma che so ci penso io qua là alla fine comprammo degli elmetti troviamo degli elmetti è un bruttamaio a pochi euro abbiamo anche fatto un piccolo guadagno e appunto poi contattai gli guardi abbiamo trovato 25 elmetti 500 euro va bene va bene va bene vabbè mandateci i soldi abbiamo mandato ci hanno mandato i soldi io vedi la il beneficiario l'ordinante Yoko Ono Lennon ah là chiamo Roberto io robè ma lo sai a chi abbiamo venduto gli elmetti eh a Yoko Ono ah non vi dico la risposta che è stata poco poco ripetibile però diciamo si è stupito alquanto cioè potremmo gli ete gli ete più eh che ne so a saperlo comunque vabbè alla fine questa questa mostra l'hanno fatta a Venezia io sono stato anche invitato a vedere questa questa mostra tra l'altro una foto questa pubblicata sul libro il mio libro sugli elmetti non so se si vede io sono quello in mezzo a questi elmetti comunque se avete piacere questa mostra era itinerante l'hanno rifatta anche in vari paesi del mondo quindi se voi andate su google mettete Yoko Ono elmets trovate queste opere tutte diverse con varie tipologie di elmetti diversi però però è sempre la stessa era possibile anche prendere i pezzi di puzzle come ricordo cioè era una cosa quindi non era né un unico lavoro cioè era l'idea riprodotta in vari posti anche perché probabilmente neanche Yoko non l'ha materialmente fatto ha detto come farlo e poi ogni posto lo rifacevano e anche con una sorta di di ripetitività anche nei pezzi di puzzle che uno li poteva prendere come ricordo quindi li avrebbero rabboccati quindi questa questo aneddoto fa anche riflettere come gli elmetti possano essere utilizzati come forma d'arte bisogna però che qualcuno te la spieghi perché sennò non era proprio intuitivo riuscire a capire che l'elmetto era il volto del soldato morto che guarda il cielo eccetera però l'arte è un qualcosa di emozionante di emozione di senso di immedicazione se vogliamo in qualche modo lo rendeva nel senso che effettivamente l'elmetto rappresenta la testa il morto è questo che che va in cielo nel senso riflette sui pensieri quindi non è molto credibile mi rendo conto però mi viene da ride però però se uno considera che in molti cimiteri gli elmetti vengono messi venivano messi sopra le croci quindi un qualcosa di analogo ci può essere poi per carità Yoko Ono ci ha stupito nei decenni per sue cose un po' così poco comprensibili però l'arte è arte io vi ringrazio mi rendo conto che il video è un po' strano quello di oggi però me l'hanno chiesto volevo raccontare poi magari ci facciamo due risate non è che sempre discorsi seri e così vista poi l'ambiente oggi in questo periodo stiamo un po' sempre tappati in casa magari facciamo una risata in più e siamo anche più contenti quindi dico mi piace anche questo video iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao